E' iniziata la gara alle ore 15 e 12, la formazione dei nostri ragazzi giovanissimi, numero uno Dottavio Matteo, numero due Ceroli Alessio, numero tre Colaizzi Guido, numero quattro Donofrio Gabriele, numero cinque Nasuti Cristiano, numero sette Tucci Federico, numero otto Perrucci Nicola, numero nove Gianleonardo Emanuele, numero dieci Daniello Michela.